Ciao, buongiorno, in questo video ti parlo di 4 segreti, 4 caratteristiche dell'attività di network marketing che rendono le persone felici. Se non mi conosci, io sono Lorenzo Ciscetti, dal 2006 aiuto le persone a costruirsi un guadagno automatico e ricorrente tramite il network marketing, internet e adesso i social media. Allora, è un pezzettino che non ci sentiamo perché sono stato super indaffarato a costruire il mio business che sta andando veloce come un razzo, ma ho fatto un corso di formazione che mi sta veramente facendo fare il salto di qualità, ma a parte questo ritorniamo al tema del video. Sono 4 punti per la felicità, che ovviamente è la cosa più importante in quello che facciamo, ok? Per essere felici abbiamo bisogno di 4 elementi. Il primo è la novità. Noi siamo felici quando incontriamo delle cose nuove, tipo un posto nuovo, una persona nuova, un cibo nuovo, un'idea nuova, una formazione nuova, questo ci dà un senso di felicità e per questo a noi ci piace, a tutte le persone piace viaggiare, vedere un bel posto, incontrare una nuova persona, una nuova idea, un nuovo cibo, un nuovo vino, eccetera eccetera, sicuramente hai capito l'idea. E le novità nella nostra attività ci sono, perché incontriamo, parliamo con persone nuove, visitiamo posti nuovi, impariamo cose nuove, eccetera. Il secondo punto è la sfida. Ok, qua c'ho. Il secondo punto sono le sfide. Noi per essere felici abbiamo bisogno di sfidarci continuamente, di uscire dalla zona di comfort, quindi abbiamo bisogno anche di incontrare delle difficoltà e lavorare per superarli, perché senza difficoltà, senza cose che ci fanno uscire dalla nostra zona di comfort non ci sentiremo vivi e anche non ci sentiremo felici. Abbiamo questa tendenza che vogliamo crescere, vogliamo superare difficoltà. Tu pensi che non vuoi le difficoltà, ma in realtà le persone con una birra sul divano a guardarsi la televisione non le ho mai conosciute, non le ho viste mai che sono felici, energetiche, vibranti. Ok, quindi persone che non affrontano le sfide, persone che rimangono all'interno della loro zona di comfort, che si accontentano, non sono felici. Qualcuno dice chi si accontenta gode, in realtà chi non si accontenta è quello che gode, per come la vedo io. Comunque punto due le sfide. Ci sono le sfide nella nostra attività? Assolutamente. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno è un divertimento. Il terzo punto è l'espressione creativa. Noi siamo felici quando esprimiamo qualcosa di noi in modo creativo, come un artista fa un quadro, noi quando facciamo una presentazione, quando parliamo con qualcuno, quando formiamo il nostro gruppo, noi ci esprimiamo in continuazione. Forse è una delle cose che io amo di più in questa attività, cioè quella di esprimermi. Lo faccio anche con questi video, quindi è l'espressione creativa. La domanda che devi fare è mi sto esprimendo in modo creativo, sto esprimendo chi sono attraverso la mia attività. Il quarto punto sono le connessioni con le altre persone, la connessione con gli esseri umani. Se tu ci pensi bene, i momenti più felici nella tua vita, quali sono stati? Sono stati quelli insieme, non quando eri da solo, ma quando eri insieme alle altre persone, i momenti più felici per me, quando mi incontro agli eventi con il mio team, stiamo insieme, ci divertiamo, quando stabilisci delle connessioni con persone che hanno la tua stessa visione, con persone che hanno dei sogni, che vogliono crescere, quello è il momento veramente che siamo felici e questa è anche la ragione per cui non possiamo fare a meno della nostra attività. Detto questo, se sei in un'attività di network marketing, fantastico, continua così, se non sei in un'attività di network marketing è il momento di entrare, ok? È il momento di entrare. Chiedi a me, chiedi a un tuo amico che ti ha chiesto, chiedi a una persona con cui ti senti veramente in sintonia, con cui ti senti bene, eccetera, e inizia la tua attività e dopo che l'hai iniziata mi ringrazierai, mi direi Lorenzo, grazie a questo video, se io ho iniziato questa attività e il mio livello di felicità è nettamente aumentato. Bene, se ti è stato utile questo video, quello che io ti chiedo è lasciare un commento sotto al video, magari scrivimi in privato se questo video ti è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, buon pomeriggio, buona serata, un abbraccio a tutti, ciao a tutti!